Da ormai due anni sono impegnati in prima linea per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche erogando quei servizi, come la spesa a domicilio e tanti altri, che per innumerevoli persone sono stati un'ancora di sicurezza, in questo momento difficile, senza dimenticare quelli che da sempre sono i compiti precipui della protezione civile, intervenire in caso di emergenze di vario tipo affiancando vigili del fuoco e forze dell'ordine, sempre nell'ottica di proteggere e tutelare popolazione e territorio. Una presenza costante, importante, fondamentale, quella degli angeli in giallo. È per questo che nella mattinata di sabato 11 dicembre, nella sede della protezione civile provinciale di Via Grandi, a Rovigo, la scena è stata tutta per loro, un bilancio di quanto fatto e la meritata consegna dei riconoscimenti ai vari gruppi comunali e intercomunali.